Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura al Cronaca, ieri sera un incidente sul lavoro a Pieve Santo Stefano, dove un operaio si è infortunato attorno alle 22.40 durante il turno notturno. L'uomo di 39 anni è rimasto ferito ad una mano con una grossa bobina di cavi. Sul posto i sanitari dell'emergenza urgenza e i carabinieri, attivato anche il PISL. Il 39enne non è in gravi condizioni, è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Sansepolcro per le cure del caso. E adesso la Cronaca giudiziaria. Il caso di Guarina Piscaia è tornato nelle aule del Tribunale di Arezzo. Va infatti avanti il procedimento civile intrapreso dalle sorelle della donna che hanno avanzato una richiesta di risarcimento danni nei confronti della diocesi di Arezzo-Cortone e Sansepolcro dell'Ordine dei Premustratensi. Questa mattina sono stati ascoltati i primi testimoni. Per l'omicidio e la distruzione del cadavere della donna è stato condannato a 25 anni di carcere l'allora parroco di Caraffello, Gratiena Labì. Oltre alle sorelle e le nipoti di Guarina Piscaia, anche il marito e il figlio hanno intentato una causa. In entrambi i casi le famiglie chiedono una milione di euro di risarcimento. E adesso voltiamo pagina, oggi il terzo giorno del forum Risk Management in Sanità in corso attualmente ad Arezzo. Sentiamo il messaggio del ministro Schillaci. Nella manovra finanziaria 2024 stanziamo risorse che portano il Fondo Sanitario Nazionale a una cifra record che rappresentano un'iniezione di ossigeno per un sistema reso sofferente da anni di tagli lineari. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in un messaggio video inviato al forum Risk Management in Sanità in corso ad Arezzo. Un finanziamento finalizzato a ridurre i tempi delle liste d'attesa e a migliorare la retribuzione economica del personale sanitario perché vogliamo che i nostri operatori restino nella sanità pubblica. Sul tema della mancanza di medici ed infermieri, la Regione Toscana ha approvato una delibera che consente ai medici che non hanno la specializzazione in emergenza urgenza di accedere al concorso dopo tre anni di permanenza. Nel 118 per la Toscana arriva inoltre una novità, un numero unico, sanitario, per tutto ciò che non è emergenza. 116-117, proprio ieri abbiamo avuto l'autorizzazione, questa è una notizia, del Ministero della Salute per tutto ciò che non è emergenziale. Necessità di ricorrere all'accesso al medico di famiglia, alla guardia medica, a un'assistenza di natura infermeristica, a un consiglio su un farmaco o una reazione avversa di un farmaco. Oppure per capire se necessita accedere a percorsi di riabilitazione o di inserimento in un RSA oppure in un ospedale di comunità. Il numero 116-117 sarà attivo, risponderà H24, 7 giorni su 7. Tra i temi anche l'assistenza alle persone fragile e malati cronici che grazie alle nuove tecnologie dovranno essere sempre di più gestiti a domicilio per evitare di affollare il pronto soccorso. Attenzione alla fragilità vuol dire prima di tutto prevenzione, prevenzione ad esempio vaccinale perché ormai con i vaccini si possono tenere sotto controllo molte patologie, prevenzione degli screening e in qualche modo riorganizzare i percorsi clinici assistenziali per cercare il più possibile di tenere le persone fragile anche a casa, a domicilio. È chiaro che la telemedicina con quello che può consentire di televisita, telemonitoraggio e telecontrollo è uno strumento fondamentale. Il ministro Schillaci a conclusione del suo intervento ha definito strategici e necessari i temi affrontati proprio dal forum RISC per una riforma reale. I temi al centro di questo forum sono senza dubbio tutti i tasselli necessari e strategici nel processo di cambiamento che stiamo portando avanti. Un percorso di riforma che per essere reale deve essere partecipato e condiviso. E sempre alla forum RISC è una dimostrazione da parte del centro chirurgico toscano delle simulazioni per abbattere il rischio clinico. Allora Alessandro, ascoltami, abbassa il letto perché il passaggio deve essere efficace. Un paziente che in sala operatoria deve essere rianimato, una casistica che mai nessuna equip medica vorrebbe trovarsi di fronte ma che può ovviamente capitare. È con la simulazione che il centro chirurgico toscano abbatte il rischio clinico mettendo di fronte così i suoi operatori sanitari a vari scenari emergenziali ai quali saranno più preparati a rispondere. Anche ai rianimatori più esperti, negli ospedali più grandi, non è che capita tutti i giorni dover rianimare una persona con massaggio cardiaco o comunque manovre salvavita come questa. Per cui può succedere, anzi succede senz'altro, che quando capita di vedere una persona stessa in terra e non sai se è viva, se è morta, insomma che va rianimata, tu non abbia la dimestichezza con le manovre che comunque conosci. L'unico modo per avercela questa dimestichezza è esercitarsi. Oggi esistono dei manichini che sembrano persone reali, che hanno le stesse reazioni di una persona, di un essere vivente. Una volta ogni mese, ogni 15 giorni noi simuliamo situazioni d'emergenza. Una piccola dimostrazione è stata data durante il forum Risk Management in Sanità. Analisi del ritmo cardiaco in corso, scarica non consigliata. Scarica non consigliata, va bene, proseguiamo allora col passaggio cardiaco. Noi appunto immergiamo i nostri colleghi in situazioni artificiali costruite ad hoc con lo scopo di allenare non solo le abilità pratiche e tecniche, ma anche la capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con i colleghi. In un certo senso funzionano citando una collega psicologa da vaccino cognitivo. Quindi si espone il personale a una situazione come un antigene e più facilmente si potrà contrastare l'effetto e gestire meglio in realtà la situazione quando al posto del simulatore del dispositivo arriva qualcuno di noi, un paziente. Si va a simulare tutti quegli scenari che ci permettono di valutare e di esercitare sugli operatori quelle che sono le capacità sia tecniche, quindi quanto farmaco somministrare, come riconoscere una situazione clinica critica, ma anche quelle non tecniche che nessuno insegna nel percorso di studi né di medicina né di scienze infermieristiche. Quindi la capacità di parlare con i parenti, ad esempio, di comunicare, di lavorare in team all'interno di un'equip in un'emergenza. Ancora Sanità, un intervento delicato, innovativo, ma in grado di ridare futuro e speranza. Si tratta di un rimpianto di tessuto varico crioconservato effettuato presso la fisiopatologia della riproduzione umana dell'ospedale Santa Margherita di Cortona con l'equip ginecologica dell'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze, che ha riguardato una giovane donna curata per un'importante patologia oncologica. Si tratta del primo caso eseguito in Toscana e nel centro-sud Italia. È invece tutto pronto per l'open day di vaccinazione contro il papillomavirus lanciato dalla regione Toscana per il 24 e il 25 novembre. Venerdì 24 i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale offriranno la vaccinazione e i propri assistiti negli ambulatori, mentre sabato 25 novembre le vaccinazioni si sposteranno nei centri vaccinali. L'iniziativa è rivolta ai maschi dagli 11 ai 18 anni e le ragazze dagli 11 ai 26 che non hanno mai ricevuto il vaccino o non hanno ancora completato il ciclo antipapilloma. E adesso voltiamo pagina e ci spostiamo a Rigutino per tornare a parlare della ponte che presto sarà demolito. A rispondere ai residenti preoccupati è l'assessore Alessandro Casi. L'amministrazione comunale può intervenire in questo caso da supporto perché lì siamo in una proprietà privata con una volontà della regione toscana a seguito di un dirizzo della procura della Repubblica per la demolizione di questo ponti. È l'assessore alla manutenzione opere pubbliche del comune di Arezzo Alessandro Casi a rispondere sollecitato dalla nostra redazione ai residenti di Rigutino, frazione del comune capoluogo. Qui presto verrà demolito un ponte privato che sovrasta il rio di Rigutino che è ritenuto pericoloso per il rischio idrogeologico. Ricordo che questo intervento è un intervento che fa parte in realtà di un progetto molto più ampio perché a seguito degli allagamenti dell'alluvione del 2019 la procura ha aperto questa indagine su tutto il territorio comunale. Ha dato un incarico a dei tecnici che hanno portato avanti questa indagine e sono decine i ponti che devono essere demoliti. Si sta parlando di quasi una cinquantina di ponti che sono su tutto il territorio comunale e riguardano strade comunali, strade private, strade vicinali. Nessuno si oppone alla demolizione, ne va della sicurezza delle persone in caso di esondazione, ma i cittadini chiedono una soluzione per poter attraversare in questa parte del paese e in sicurezza il corso d'acqua, evitando così di dover percorrere a piedi la regionale 71 per raggiungere servizi e negozi. Il ponte non è che non può essere ricostruito, il ponte può essere ricostruito chiaramente deve rispettare quelle che sono le normative attuali. Chiaramente ad oggi se viene deciso di portare avanti un intervento è il privato che ci deve dire come portare avanti l'intervento e quali saranno le modalità. Qualora il privato intenda cedere le aree al comune, allora il comune può avviare la procedura per la realizzazione del ponte. Si parla di un iter chiaramente lungo perché deve essere prima ceduto l'area interessata all'amministrazione comunale, ci deve essere un passaggio in consiglio comunale per l'acquisizione di quelle che sono le aree e una volta acquisite allora potrà portare avanti quello che è l'iter di realizzazione della passerella. Noi abbiamo già parlato anche con il proprietario, fisseremo a breve un incontro per dare una risposta a quelle che sono le esigenze dei cittadini, quindi stiamo valutando in base a quelle che saranno poi anche le volontà del privato su come poter dare una risposta a quelle che sono le varie necessità. Il sindaco Ghinelli e l'assessore Francesca Luccherini invece hanno presentato il futuro dell'area ex Caserma Cadorna. Tornerà ad essere una piazza che gli aretini non hanno mai visto perché prima è stata sede di convento, poi di caserme, poi anche se aperta alla cittadinanza ma usata come parcheggio. Ovviamente riportandola ad essere piazza le auto devono essere trasferite in altro luogo ed ecco che nasce l'idea di un parcheggio multipiano messo nella parte più lontana, meno visibile e in parte anche mascherato da un nuovo edificio. Così la piazza Fanfani, che verrà, è stato infatti presentato il piano attuativo dell'area dell'ex Caserma Cadorna che prevede una riqualificazione edilizia ed urbanistica significativa. Ci sono questi due primi edifici che sono la palazzina ex comando che diventerà il centro per l'impiego che è già stato fatto il progetto definitivo, appaltato in questi giorni, poi l'ex corpo di guardia che diventerà bar servizi, anche questo con un affidamento per appalto e questi sono i primi due che partiranno. Poi il resto ovviamente dovrà essere pensato e soprattutto progettato in maniera più pontuale, esecutiva e per stralci funzionali verrà poi attuato. Il progetto prevede quattro nuovi volumi ed altrettanti nuovi spazi aperti. Prevede proprio una divisione di questo grande spazio che è tutto il cortile dell'ex Caserma Cadorna che viene diviso in due, in due isolati, vengono ricusciti due isolati. Uno completamente pedonale che prevede una parte a verde e una parte mineralizzata, cioè pavimentata, con un edificio che poi farà appunto da quinta, che sarà un volume completamente nuovo e sarà un edificio polifunzionale e dietro avremo tutta invece la parte carrabile che appunto ricuscirà via Garibaldi con via Petrarca con l'accesso sia per dei parcheggi a raso ma anche per appunto il multipiano. Un nuovo percorso pedonale è previsto anche in convenzione nel piano di recupero dell'ex Palazzo Enel. Loro per convenzione cederanno a noi sia un passaggio pedonale sulla parte sinistra che una parte sulla destra che viene ad ampliare questo passaggio che è già esistente. È partito anche l'iter dell'avviso pubblico per l'affidamento della gestione con contestuale riqualificazione dell'impianto sportivo di Pratantico. La nuova procedura di evidenza pubblica riguarda tra gli altri il campo a 11 in erba naturale di 100 metri per 54, un campo da calcio a 5 in erba sintetica di 42 per 21 e dotato di illuminazione. Come al solito potranno partecipare all'avviso le associazioni e le società sportive direttantistiche senza scopo di lucro, affiliata ad una federazione sportiva nazionale a una disciplina sportiva associata a un ente di promozione sportiva. La gestione si prolungherà per un arco temporale che va da un minimo di 5 ad un massimo di 25 anni. Adesso andiamo invece a Cortona dove sta arrivando la magia del Natale. Tre piazze protagoniste è una scia continua di eventi. Così si presenta Natale di stelle, la rassegna degli appuntamenti delle festività a Cortona che quest'anno aggiunge luci e riflessi. Le luci sono infatti quelle che daranno vita alle proiezioni sulle facciate dei palazzi di Piazza della Repubblica, i riflessi quelli della speciale isola che emergerà in Piazza Signorelli. La cata di Babbo Natale invece torna a Palazzo Ferretti. Si parla di 50 eventi e anche di frazioni perché poi andremo a coprire anche quelli che sono gli eventi su Mercatale, Terontola, Camuscia con quattro giornate molto impegnative e intense ma veramente di grande livello. Quindi un Natale che copra 360 gradi un po' tutto, molto impegnativo come organizzazione ma tuttavia abbiamo davvero portato un programma molto operativo e molto valido. Sono due che appartengono alla stagione teatrale che sono Callas, Callas, Callas. Ricordo che quest'anno si celebra il centenario della nascita della grandissima cantante, forse più grande di tutti i tempi. E poi anche il consueto concerto dell'Orchestra Regionale Toscana. Oltre ciò abbiamo il 7 dicembre la Tosca con la core orchestra di ritorno da questo tournée che ha portato grandissimi successi in Germania. E poi voglio ricordare la colazione al museo del 1 gennaio, il Capodanno e nel pomeriggio al Teatro Signorelli sempre la core orchestra con il concerto consueto di Capodanno. Quest'anno torna il presepe vivente di Petraia il 25 e il 26 dicembre, l'1, il 6 e il 7 gennaio con un'anteprima della rappresentazione della Natività in Piazza della Repubblica l'8 dicembre. Stiamo creando anche delle scenografie nuove, stiamo cercando di ricostruire in piccolo il tempio che era a Gerusalemme all'ingresso della città ai tempi di Gesù. Quindi è un lavoro che ogni anno creiamo scenografie nuove e percorsi nuovi. Spazio alla cultura poi al centro convegni Sant'Agostino. Sarà il centro di numerose mostre, quindi sia all'interno dell'auditorium che qui nel porticato. Quindi è una cosa molto positiva perché questo chiaramente porterà gente e porterà gente anche per Cortò. L'inaugurazione sabato 2 dicembre alle 17 con l'accensione delle luminarie, delle proiezioni immersive e con gli spettacoli di apertura. Una serata di musica, solidarietà e divertimento per festeggiare i 30 anni degli Uma Groso, la band che dal 1993 anima feste ed eventi. L'appuntamento è per sabato 25 novembre alle 21 alla Teatro Tenda. I componenti del gruppo saranno affiancati dall'orchestra sinfonica e il coro del liceo Petrarca. La finalità della serata è quella di una raccolta fondi a favore del servizio scudo per il Calcita per l'assistenza delle cure domiciliari oncologiche. I fondi per il Calcita saranno raccolti anche con la mostra di Natale del gruppo femminile del Calcita che aprirà sabato 25 novembre alle 10.30 nei locali del Circolo Artistico. La Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia invece ha ospitato le premiazioni della 25esimo premio Tagete. Oltre che essere contento per questo premio, perché è un modo per ricordare ancora Enzo Gradassi, sono contento perché si ricorda ancora il sacrificio di queste tre persone molto importanti per la resistenza retina. perché non dimentichiamo che Santino Tani era antifascista già durante il ventennio e anche Aroldo Rossi faceva parte della prima resistenza nel settembre del 43. Il primo premio della sezione saggistica 2023 è stato assegnato al libro Una lira per tre vite di Santino Gallorini e Denzo Gradassi recentemente scomparso. Era un riferimento lui nella storiografia resistenziale qui della provincia d'Arezzo. L'associazione scrittori Arettini Tagete ha celebrato i 25 anni del premio letterario omonimo con un doppio appuntamento in Sala dei Grandi in provincia, appunto il 25esimo premio letterario Tagete ed il terzo premio letterario nazionale Etruria. Sono intervenuti autori da varie parti d'Italia e quindi abbiamo portato Arezzo ad essere un punto di riferimento anche nell'ambito letterario, non solo per le sue meraviglie artistiche e per la musica e tante altre cose che riguardano la cultura, ma anche per la letteratura. Nella sezione narrativa primo premio al poliziesco l'erborista di Camaldoli di Gian Lorenzo Casini e Maria Laura Ghinassi, madre e figlio. Per le opere inedite invece Giuseppe Pugliese per il racconto Manuichi. Nella categoria opposte sinergie primo premio a Stefania Calesini per la poesia sull'orlo di un paese sconosciuto. La classifica finale del premio Etruria invece ha visto al primo posto Madicla di Dio Morgano con il vecchio delle Madoni. Nella sezione poesia primo posto ad Evaristo Seghetta Andreoli con il geranio sopra la cantina. Il premio Opera Omnia infine al professor Gianni Galli, studioso di storia retina e autore di Saggi sul Novecento. La storia finisce per essere emozionante per uno storico in generale ma anche per un lettore proprio perché la storia del passato sembra il passato ma in realtà è una cosa sempre presente perché siamo noi che interpelliamo, guardiamo, interroghiamo il passato, lo facciamo rivivere e mentre questo passato in qualche modo rivive nella pagina viviamo in un mondo e in una maniera tutta particolare. E l'intera serata di premiazioni andrà in onda domani subito dopo il nostro TG. Ed è tutto pronto anche per un'altra grande giornata di premiazioni, quella del premio internazionale Semplicemente Donna che si appresta ad alzare il sipario su un'edizione 2023 ricca di storie e personaggi e spunti di riflessione. Domani sera alle 21 al Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino l'evento clou della manifestazione che vedrà le 13 protagoniste di quest'anno raccontarsi al grande pubblico nel corso di un'emozionante cerimonia. A Castiglion Fivocchi invece un evento organizzato da Orgoglio Amaranto che anche quest'anno ha confermato il proprio impegno in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. I tifosi Amaranto sono invitati sabato 25 novembre a partecipare all'evento organizzato in collaborazione con l'Arezzo Calcio Femminile Leacli. Aperitivo, testimonianze, cortometraggio e teatro per sensibilizzare su un tema così importante. Per l'occasione Orgoglio Amaranto ha anche ideato una maglietta acquistabile al costo di 10 euro e l'intero ricavato sia della serata che delle maglie contribuirà alla donazione di una panchina rossa simbolo della lotta al fenomeno e al centro antiviolenza pronto donna di Arezzo. E adesso passiamo allo sport. Sarà una giornata di formazione per istruttori, maestri e allenatori di nuoto per approfondire la didattica nelle diverse fasce di età tra tecnica degli stili, virate e partenze. L'appuntamento, promosso da Chimera Nuoto, è in programma per domenica 26 novembre al Palazzetto del Nuoto di Arezzo e andrà a proporre una prima occasione di confronto, aggiornamento e condivisione di buone pratiche con l'obiettivo di migliorare l'insegnamento dal nuoto neonatale agli adulti. Questa per stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci. Grazie.